ciao ragazzi finalmente siamo arrivati qui a gallipoli siamo in puglia 9 ore di macchina sono stanchissima puzzo sono sudatissima ma sono troppo contenta e insomma non vedo l'ora di andare a fare il bagno di vedere l'acqua cristallina della puglia e anche se io da piccola ci sono già stata in puglia e ma non mi ricordo assolutamente niente e quindi qui non ci vengo da tanto tempo eccoci ragazzi siamo al centro storico di gallipoli non siamo anni non ci vuoi studiare anche se non si è diventata ma anche se io abbia pausa siamo in grado e per i suoi stessi ma oi matti faccio un saluto ciao a tutti ragazzi benvenuti nel canale di letta ruta il primo giorno di vacanza primo ristorante colpo sicuro servizio voto se devo fare la fiscale il fiscale come fai sempre tu voto 3 si anch'io però do essere buoni 6 il mio voto è 5 a essere buoni a essere buoni 5 il menù 4 la votazione alla location possiamo vedere insomma che diciamo un po non posso non posso essere buono più di tanto no quindi voto ok ragazzi adesso arriverà il conto che potrà ribaltare o confermare il risultato come voto complessivo per ora ma non tutto è deciso perché il mio voto potrà potrà fare la differenza non abbiamo trovato un ragazzo carino e neanche una ragazza che ci guardasse modo carino cioè bene tutto che ci guardano male questa è una via proprio queste cose sono tutte viente delle case macchine tutte piene e laggiù c'è il mare buongiorno amici ore 8 e 10 mi sono svegliata con mia sorella alle sette e mezza vi direi anche presto anche perché ieri eravamo stanchissimi dopo tutta la giornata dopo tutto il viaggio dopo tutto quello che abbiamo fatto comunque ho passato una notte super fredda ci ha fatto freddissimo questo è il panorama che abbiamo perché lì ci stanno altri appartamenti vedete 1 2 3 e questa insomma la vista buongiorno ragazzi eccoci qua ci sono altre palazzine ma ce ne stanno certe veramente brutte buongiorno come dormito benissimo bene però faceva freddo freddissimo ecco la c'è scritta gallipoli finito di fare colazione allora siamo arrivati in questa spiaggetta adesso vediamo dove metterci vedete là c'è la sabbia tutti ammassati e poi forse lì è affattibile ma ci stanno i scogli siamo qua guardate la gente che c'è l'acqua un po qua è un po torbida infatti guardate ci stanno benissimo ecco 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 Spiaggia libera È arrivata la pizza Patatine Buonissima L'abbiamo finito A vedere, grazie Niente Sì, tutte le lingue, il caffè Il vero consiglio assolutamente Olimpio, che è bar e ristorante Amo? Ha provato? No, no, Thais ha una favola Buonissimo, stavamo lì Salutate Tutte le cose fatte così Tutte le cose fatte così Eccoci, siamo Andati a messa Andati a messa, ritornati da messa E questo è il nostro outfit Molto Carino Casual Pizza, buonissima Il bellissimo Musa Fontana Sto che si sta precisando Cioè, guarda cosa arriva Per quanto la chiesa fa della puntata 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 E come una peggolina E come una peggolina Buongiorno 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 Che acqua spettacolare che c'è In video il sud per questo E per il cibo Viore Scorso Guardate Salve No, no. No, no, no.